buongiorno e benvenuti in questo nuovo video ragazze mi è arrivata una nuova collaborazione non so di cosa si tratta posso avere l'intuito però lo apriamo insieme mio marito già sta aprendo devi aspettare apriamo questa collaborazione insieme non so ragazze che cosa sia non ho proprio idea cioè posso intuire dallo scatolo grande ma non ho idea mio marito la vuole aprire mamma mia mamma mia ragazze mamma mia no vabbè non vedo l'ora no mamma ma non sappiamo che cos'è non lo rompere ragazze non vedo l'ora di farvelo vedere in azione perché non vedo l'ora di vederlo in azione francisco che hai fatto aspetta mammina antonio antonio ah è l'all 1990 no Grazie a tutti. 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 Quindi venite con me e andiamo a parlare di questo robot. Come avete potuto vedere mi è arrivata una bellissima collaborazione che adoro, adoro. Parliamo del robot. Yedi 2 british. Allora, ve lo faccio vedere meglio. Guardate qua. Questo robot. Il robot è fantastico. Il robot. Il robot. Il robot. Come lo swiffer. E mi ha trovato. la stanza per la stanza per la stanza per la stanza per tutta la stanza per tutta la casa e mi lava anche a terra e lo adoro solo per questo. sta anche il serbatoio per l'acqua. Io l'ho già utilizzato. Allora, non vi fa una lavata a terra come prendere un secchio e lavare a terra. assolutamente no. Però vi fa una pulizia. E' una rinfrescata. Per esempio. Adesso ho casa pulita. Per dire. Se voglio pulire a terra senza prendere il secchio con la pezzolina eccetera. Io prendo il... Sempre se non lo rompo. Prendo questo e faccio fare una lavatina a terra. E devo dire la verità. Mi rimane bello pulito. Sono sincera. L'unica cosa che io personalmente non mi trovo è perché sono abituata a passare io l'aspirapolvere e vedere dove sta lo sporco. Invece. Lei fa tutto da sola. Quando però sono andata a controllare per vedere se veramente puliva bene. Sinceramente. Raga. Pulisce benissimo. Benissimo. L'ho anche provata. Non passando l'aspirapolvere io. Ma da sola. E potete vedere. Ha una telecamera. Che voi tramite questa telecamera potete inserire il codice. Non lo so. Che basta vedere le istruzioni. Stesso dal telefonino. Così voi la potete utilizzare tramite il cellulare. L'avviate. E poi la fate andare a posare nella sua postazione. A proposito di postazione. Questa è la sua postazione dove si va a caricare. E c'è anche il filo. Che voi rimanete sotto carica. E mettete la wedding qua sopra. Il filo. Potete metterlo anche dietro. Per non far vedere il casino. E questo lo inserite. Come faccio io. Nella spina. E automaticamente si va anche a caricare. Poi. Un'altra cosa carina. Che ha. Un pennellino. Dove voi potete andare a pulirlo. Bene bene. Ve lo faccio vedere. Dove voi potete andare. A pulirlo. Bene. Vedete. Qua sotto. Qua. Anche se sinceramente. Basta passare una pezzolina. Un panno bello. Come faccio io. Ed esce veramente. Bello. Pulito. Pulito. Ragazzi. Niente. Io non so cosa dire. Perché veramente. È bellina. Molto bella. Secondo me. La pazzia. L'avrei fatta anche io. Non. 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 Avevo idea. Di questa cosa. Non ne ero a conoscenza. Eh. Infatti. Ho visto. Che ci sono molte persone. Che. L'hanno vota. Come collaborazione. Non sono andata a vedere. Assolutamente. Perché. Mi piace essere me stessa. Sicuramente. Avrò. Non avrò detto niente. Di questo. Di questo robot. Però posso assicurarvi. Che. È top. Veramente. Del top. Solo. La cosa. Che non ha il filo. Ed è. E tira tantissimo. La polvere. E la sporchizia. Ragazzi. Per me. Già. Ha vinto. Poche. Vi fa. Una. Passatina. A terra. Veloce. Veloce. Fresca. 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 Ancora. Meglio. Anche. Se non è. Eccezionale. Perché sappiamo. Alla fine. Il robot. E meglio. Sicchio. Capezza. Per lavare. La terra. Però. A posto di. A volte. Si usano. Quelle scope. Che uno. Manda. Fa lo spruzzo. E passate. A volte. E' meglio. Questa. Che lo fa da sola. Tranquillamente. Niente. Spero. Che questa. Collaborazione. Comunque. Anche a voi. Vi sia piaciuta. Io. Sapete. Sono. Una. Che. Non va a leggere. A fare. A dire. Ho preso. La. Wedi. Non lo so. Come si chiama. E l'ho. Testata. Appunto. E testandolo. Ho visto. Che veramente. Ottima. Infatti. Io. Se non era buona. La prima cosa. Dico. Ragazzi. Ho avuto. Questa collaborazione. Però. Non mi piace. Assolutamente. No. Quindi. Sinceramente. A me. Personalmente. Mi piace. Mi piace. Tantissimo. Non penso. Non so. Se stanno. Altri colori. Non mi sono andata. A informare. So. Che. Troppo. Troppo. Bella. E la cosa. Che mi piace. Di più. Che io. Prendo. Il telefono. E la. Faccio. Avviare. Da sola. Che. Così. Quando torno. A casa. Trovo. La casa. Tutta. Sistemata. La mappa. Ovviamente. Se. La deve. Si deve. Modificare. La mappa. Se so. Dal cellulare. Però. Vedete. Tutto. Nella. Descrizione. Penso. E anche. In inglese. Comunque. Ragazzi. Capi. Io. Più o meno. Come. Come funziona. Figuriamoci. Voi. Che siete. Molto. Molto. Più. Intelligenti. Di me. Bastare. Vedere. Le immagini. Per chi. Come me. Non sa. Leggere. Le immagini. E. Niente. Escono. Questi. Due. Che. Si attaccano. Si staccano. Vedete. Questi qua. Adesso. Li mettete. Dentro. Questi qua. Per pulire. Proprio. Anche. Gli hanno a pulire. Qui ci sta. Vedete. Robottino. Che mi. Tira un sacco. Di polvere. Un sacco. Di capelli. Soprattutto. Guardate. Quanti capelli. Vedete. Guardate. Come andarlo a pulire. Basta togliere. Questo. Vi faccio vedere. Vedete. Togli. 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 E si pulisce. Subito. Quindi. Anche. Per una questione. Di pulizia. Subito. Si pulisce. E poi. Niente. La gamba. Troppo. Bella. Quindi. Con il mio. Codice. Sconto. La potete andare a pagare. A posto. Di. Due. Settanta. Le andate a pagare. Due. 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 Una cosa del genere. Poi. Comunque. Vi metto tutto nell'info box. Per essere più chiara. E. Niente. Io vi mando un bacio. Ciao. Al prossimo video. Ciao.